Siamo con Nicola Scaglioni al termine di Feralpisalo-Gubbio 2-1. Partiamo innanzitutto dalla vittoria. Anche oggi hai dato il tuo contributo per salvare in diverse occasioni. Sono tre punti fondamentali arrivati al 92esimo di una partita non male. Sono contentissimo soprattutto per la vittoria della squadra che era il nostro unico obiettivo di oggi era vincere per accorciare anche su quelle davanti per rimanere attaccati. Ci siamo riusciti e siamo contentissimi. E poi in più c'era anche questo discorso legato al tuo record personale, record anche della Feralpisalo in questo senso, portato a praticamente 450 minuti. Poi bisognerà andare a controllare bene quelle che sono le statistiche. No, sono contentissimo. Come ho detto prima non è solo un mio record ma è di tutta la squadra, dello staff, dei magazzini da tutti e come ho detto prima anche di quelli che giocano di meno perché ci permettono di allenarci al massimo durante la settimana. Abbiamo fatto questo record e siamo contenti. Partita non facile quella di oggi. Sapevate di incontrare un avversario ostico che veniva anche da un buon momento. Forse ciò avvalora e valorizza ancora di più la partita e la vittoria. Sapevo incontrare una squadra tosta che da quando ha cambiato l'allenatore, tre partite ha fatto sette punti. Una squadra che non molla mai fino alla fine come abbiamo visto oggi. però oggi siamo stati bravi anche a soffrire e a rimontare il pareggio.